Hello ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Metroid Other M La scorsa volta abbiamo scoperto che in un particolare settore di questa astronave, ovvero il settore Zero, stanno cercando di replicare i Metroid Difatti appena entrati dentro il settore siamo stati attaccati da un Metroid appena nato Che si è rivelato ostile, per cui abbiamo dovuto ucciderlo Non l'abbiamo ucciso noi, ma l'ha ucciso Adam Che quindi non era morto, solo che poi ha deciso di andarsi a sacrificare praticamente con tutto il settore Zero Ha cercato di far esplodere tutto il settore Zero, praticamente di distaccarlo dalla nave Per il semplice fatto che questi Metroid che stanno venendo allevati dentro sto coso Questi Metroid non possono superare il ghiaccio Ora, io adesso non posso andare di qua, no infatti non posso andare di là perché è chiuso Quindi io devo andare, devo farmi tutto il giro in giù Comunque, sì, dobbiamo andare praticamente al settore principale Dobbiamo andare nel settore principale, adesso quindi dobbiamo tornare tutti indietro Purtroppo Adam appunto si è sacrificato Per andare Ma ci stiamo muovendo, ah ok Si è sacrificato con tutto il resto della nave E noi, cosa che dovevamo fare? Che non mi ricordo Perché c'erano due scelte A parte che ci ha detto che appunto Madeline Bergman non è una nostra alleata Quindi noi in teoria non dovremmo salvarla Non dovremmo crederli Anche se è successo un casino Ah, è vero che siamo di nuovo qua Ah 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 È vero, ok Vi ricordate questa zona, vero? Che proprio nella scorsa parte abbiamo visitato E dove abbiamo combattuto Dov'è? Nightmare Questo schifoso Che schifo, è bruttissimo comunque È proprio brutto Allora noi dobbiamo andare Di qua No No, di qua è praticamente da dove veniamo Quindi dobbiamo andare di qua E lui E lui è ancora vivo L'abbiamo battuto la scorsa volta Ma come avevo detto Questa battaglia è particolare Perché lui rinasce Cioè praticamente non muore subito Ci sono due battaglie da fare E non mi ricordo La seconda com'era Mi pare fosse quasi uguale Molto simile Solamente che Come vedete Noi adesso abbiamo la La cosa La La tutta gravità Per cui dovremmo resistere Bene o male A un po' della sua gravità Dobbiamo spararli Semplicemente I colpi Orca miseria Ok, questo non me lo ricordavo Sì, comunque la battaglia si svolgerà In teoria sul piano terra qua Poi vabbè Adesso abbiamo i raggi Che sono autocercanti Quindi Gli vanno Vanno praticamente Poi potete sparare dove volete Ma lo vanno a cercare Sì, è una battaglia molto facile Allora da quello che vedo Ha creato un buco nero Laggiù Che mi rislucchia i colpi Ho capito Quindi aspetta Forse dobbiamo andare Vedere un attimo Un attimo lì sopra Vedere se È da distruggere Quella roba o no No, è un buco nero a caso Che però Oddio E cosa è successo? È esploso tutto Oh cio Oh cio Che esplode tutto E alè Con il super missile È più facile Cioè non è una battaglia difficile Più che altro C'è un modo Per togliere Il buco nero Perché ho visto che Cioè praticamente Dopo un tot di tempo Il buco nero Sparisce da solo Adesso tranquilli ragazzi Perché è morto Definitivamente Cioè non torna più Però Il buco nero Che crea Si può togliere In qualche modo Perché ho visto che Anche continuando a sparare Non va via Va via solo Dopo un tot di tempo Che salda per aria Però non Non ho idea Se Se parte da solo Perché se Se dovesse partire da solo Ora non Cioè basta aspettare Il tempo Aspetta Aspetta Qua c'è qualcosa Qua c'è qualcosa C'è qualcosa Che ci può servire Ma dove? Ehi Attacchè Tipo qua sopra Perché c'è un Eccola Un serbatoio missile Vabbè Si vabbè Ho lasciato parecchie cose Indietro Ma alla fine Cioè ve l'ho detto Non Dato che Praticamente Il 100% Qua sarebbe Prendi tutto E Boom Però Non è una cosa Così importante Cioè vi basta Cercare Poi Alcuni hanno I loro metodi Per essere presi E' più una perdita Di tempo Cioè Farlo Farlo in camera Ehi E c'è anche Questo qua Se il battaglio Recupero Ok che non mi ricordo Mentre la quantità di energia Recuperata con la concentrazione Ah ok questa è buona Questa è molto buona Vi ha lasciato qualcos'altro In giro Sì Ce n'è uno per strada lì Un altro per strada lì Un altro per strada lì Eh La voglia Probabilmente ne prendiamo tre Per Nel mentre torniamo Via Via tutti Con l'attacco rotante E' E' tutto molto più facile Cioè è tutto molto più semplificato Cioè esplode tutto così Via Allora E' Detto questo Stavo iniziando a pensare Ok qua ce n'è un altro intanto Stavo pensando A cosa ci manca Porca vacca Sono decollato Alla faccia Qua c'è qualcosa Lì c'è qualcosa Opa là Lì c'è Lì c'è l'ingresso Sì Li sto recuperando adesso Perché vi chiederete Dato che non li hai recuperati Per tutto la La let's play Perché Voglio arrivare Forse arriviamo a 25 Voglio arrivare a 25 Che è un numero che Mi può star bene Dato che comunque In una prossima battaglia Sicuramente Da quello che ricordo Ci servono Un sacco di missili Credo che quella che sia La finale La battaglia finale Avete presente quel boss Che vi ho detto Che non è un boss finale Ma più che boss finale Sarebbe un boss alternativo Anche Ecco esattamente lui Ne c'è Siete di un sacco di missili Ora noi dobbiamo andare di qua Questi se ne possono andare Dove essere in fondo di qua Nel mentre Comunque noi stiamo andando al Al settore principale Quindi tutta roba di strada Non Non mi smuovo Per andare a prendere Altra roba Ok forse là sopra Magari qua Che c'è tipo Sto foro Oppa là Infatti c'è C'è tipo il buco per terra Che praticamente vi dice Ehi guarda Qui Se vuoi passare Cioè bisogna saltare Esattamente lì Dove c'è quel foro Va bene Ci siamo 24 Tanto alcuni li troveremo Anche per strada Ma in ogni caso Non la facciamo adesso Quella battaglia Prima ce n'è un'altra Prima c'è un'altra battaglia Abbastanza importante Anche Che è quella che mi ricordo Che in realtà Ma un po' deluso Nel senso che Non mi aspettavo Ma aspetta Io sto andando giusto Sì Nel senso che Non mi aspettavo Quella cosa Quel boss Fatto così Me l'aspettavo in modo diverso Me l'aspettavo un po' più Figo Dove andare di là Porca Sono arrivato Ah è bellissimo Se fate bene La super cinesi È una cosa bellissima Va bene Dovremmo essere arrivati Non so Probabilmente Stiamo andando al settore principale Anche per vedere Che cosa sta succedendo Perché mi sa che in teoria Al settore principale Comandano la nave No? Teoricamente Non è dal settore principale Che fa partire tutto Quindi c'è qualcuno Al settore principale Che in teoria Appunto Ci aveva detto pure Adam Che secondo lui Quest'astronave È partita Verso La federazione galattica Secondo un piano Di Mother Brain Che vi ricordo Mother Brain è stato tipo Dato che è un'intelligenza artificiale Alla fine È stata Penso Trasportata Trapiantata Verso un altro mostro Potremmo dire così Perché comunque Hanno replicato Ecco Hanno replicato i pensieri Sono riusciti a clonare I pensieri di Di Mother Brain Essendo un'intelligenza artificiale Io non devo passare di qua Come ci ha spiegato Madeline Bergman Mi sento troppo inglese Quando dico Madeline Bergman Non so perché Eccoci Siamo tornati qua È la quarta volta Che ormai capitiamo Nel Nel primo settore Ma fa lo stesso Qui Chi c'è Che tempismo Attenzione Sono ancora loro Siete ancora vivi? Io devo continuare Dritto lì Però non so se devo salire E lì c'è anche Qualcosina Volendo Esattamente Dall'altro Lato Sì Bene Ci ho azzeccato Esattamente di qua Premesso Faccio prima così Vero? Ok Ci dovrebbe essere Anche qualcosa Che abbiamo scordato Che vabbè Abbiamo scordato Di tutto Anche perché Io Non so In realtà Non so Quanti Quanti Serbatoi Barra Sfere di energia Comunque Quante robe Da prendere ci sono Non me lo ricordo Anche perché Mi pare che Non le ho mai Prese tutte E non sono mai Riuscito a Prenderle tutte Guardalo Buono questo Molto buono Questo Molto molto buono Ecco Questo è un po' Meno Molto buono Questi se ne possono andare Tutti Grazie Sono evoluti Pure Sono più forti Questi Non me ne frega Niente Arche io Il caravento Io tutti Era quello? No Era un altro Quindi ce n'è uno? Ce n'è un altro Di qua Ce n'è uno Lì infatti Ok E bisogna vedere Come prenderlo Quello Quella la voglio Quella è una sfera di energia Forse c'è un Tipo un tunnel Da qualche parte Tipo qui Tipo eh Per dire Che 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 queste qua Scherziamo? Modulo energia Ok Almeno se erano Quattro Allora no Aspetta Sono diverse Vero? Dalle altre È diverso Il modulo energia Da Dall'altra cosa Perché ci sono quelle Che ti danno direttamente La capsula lì E non ci ho fatto caso Però adesso Ci sono quelle Che ti danno la capsula E quelle che ti danno Che devi raccoglierne Quattro O no? Ho sbaglio Vabbè Voi faccio saltare per aria Non me ne frega niente Dritti Dritti Ah Questo era il ponte Ok Ci siamo quasi eh Ci siamo Quasi C'era un'altra Cosa là Che vabbè Abbiamo scordato L'ho lasciata lì Ridley Adesso che ci penso Ci mancano tre boss Ci stavo pensando Oddio Ci ho pensato adesso All'inizio no Qua c'è un altro boss Qua c'è un altro boss Vedete Ridley Poveraccio è È molto messo male E c'è qualcuno Di ancora più grosso Di Ridley Di più feroce Oddio Vero 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 Mi ero scordato Io dovevo per scontato Cioè Avevo già calcolato Nightmare Che vi avevo pure detto Da Prima di Nightmare Che ci mancavano tre boss E vi ho detto anche dopo Nightmare Ci mancavano tre boss Perché con Quei tre boss Io intendevo Nightmare Era anche dentro E invece ci sono ancora tre boss Ce ne erano quattro Prima che ci mancavano Adi Va bene Questo boss Questo boss è molto fastidioso Ma molto fastidioso Più che altro perché Più che altro ci sono i Metroid anche Qua sta andando da solo Ci sono i Metroid C'è un morto James Più che altro ci sono i Metroid Che rompono Perché non sono stati distrutti O almeno No Non mi ricordo quello Lo vediamo Non posso dirvi niente Allora fatemi vedere Qua c'è qualcosa No Qua non c'è niente James Morto Quindi Questo ci porta Non so Non so quante morti Credo che ce ne sia un altro Cioè penso che possiamo andare esclusione adesso Su chi possa essere Beh in realtà poteva essere anche James Non è Non per forza Allora sopra è chiusa Potrebbe essere anche James Il sicario Magari è stato ucciso Ecco qua c'è stato un Un assassino C'è sempre sta bavetta verde Tipica degli alieni Ecco Ridley Quello che era Ridley Poverà c'è anche lui Si è stato Oddio Non so se È tipo È solidificato sicuramente Però non so se È Come se gli avesse tipo Drenato l'energia No Gliel'hanno cavata Gli è stata risucchiata L'energia vitale In un qualche modo Non so se È dovuto a quello O O Tipo alla bava Quella bava verde Che c'è per terra No Mira quel robot Grazie Ti ammazzo Non so come ho fatto Vabbè Ho sparato a casa Ok Un sistema di autodifesa Ma ne frega qualcosa Non credo A me frega di più Che quel robo Non funziona Ok Abbiamo i I multimissili Come volete chiamarli Mira grazie No Cosa Io vi ammazzo Vi ammazzo tutti Ah Forza Andrò a scoprire Cos'è Cos'è che ha ucciso Ridley Cos'è che gli ha risucchiato la vita Che che ma tolgono un sacco Quei rovi Ci ho fatto cosa adesso Comunque noi abbiamo Due, quattro, sei e otto Capsule in teoria Cioè Come vedete Le prime due lì sono Sono Cosate Sono Più grosse Per dire Capsule in teoria Capsule in teoria Capsule in teoria